buongiorno piccolo video per farvi vedere che mosini ha capito che la cuccia è di lucino e si è preso la scatolina anche perché lui è più piccino e ci sta meglio nella scatolina appena rientrato lucio non c'è e lui aveva possibilità di scelta ma lui ha scelto la scatolina e siamo tutti contenti vero mosini è venuto dalla mamma a fare tante fusa tantissime fusa stamattina ti piace vero adesso la mamma lascia il salotto così per un po di tempo fino a che non cambia la temperatura e voi cambiate abitudini si c'è una cucetta lì non vuoi sperimentarla adesso che non c'è lucino vuoi provarla è fresca è una cucetta che doveva arrivare i primi di agosto ma siccome è cinese è arrivata adesso è una cucetta fresca è fatta in modo che sia fresca ti interessa mosini ti devo pettinare non fai niente posso chiudere questo video o facciamo vedere i tuoi occhioni belli belli facciamo vedere i tuoi occhi eccolo mosini eccolo eccolo qui per le zie ciao zie ciao 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 ciao